A SMAU abbiamo presentato un progetto che stiamo portando avanti in collaborazione col Food Innovation Program, che è un programma dell'Università di Modena e Reggio Emilia, concentrato che si focalizza sul tema dell'impacchettamento intelligente, quindi lo smart packaging, quindi come Tetra Pak può sviluppare un pacchetto che abbia una sua intelligenza e quale valore questo può portare ai diversi player lungo la catena del valore dell'azienda. La collaborazione con il Food Innovation Program è una collaborazione chiave, molto importante per Tetra Pak per diversi motivi, perché questo ovviamente è un master che ha una natura multiculturale e multidisciplinare, dove viene utilizzato un approccio di design thinking, che è un approccio che parte dai bisogni dei consumatori per capire qual è il valore per i nostri utenti finali e anche per noi un'opportunità di networking con non solo l'ambito accademico, ma anche quello istituzionale e di altre aziende, sia medio-grandi come Tetra Pak, ma anche di start-up in realtà più piccole. Quindi il progetto è lo scopo di capire qual è il valore dello smart packaging per Tetra Pak. Sicuramente, come dicevo appunto, avere un gruppo multiculturale, multidisciplinare di studenti, quindi di nativi digitali, che lavorano sul tema della digitalizzazione dello smart packaging, per noi è un valore di per sé, un valore inestimabile, perché ovviamente possono portare non solo una prospettiva diversa, una prospettiva che viene da un ambito dove la contaminazione di stimoli è molto forte, cosa che per un'azienda grande invece non è sempre dato per scontato, quindi la possibilità di essere continuamente stimolati da delle persone native digitali, millennials, che sono nati con le tecnologie digitali e che hanno l'opportunità tramite ad esempio la Global Mission di venire in contatto con delle realtà di start-up, ma anche di grandi aziende e di grandi istituti in tutto il mondo, per noi è molto 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 importante.